Benvenuti nel mondo degli orologi Greubel Forsey. Greubel Forsey è un marchio svizzero di orologi di lusso fondato nel 2004 da Robert Greubel e Stephen Forsey. Il marchio è noto per la produzione di orologi di alta qualità, caratterizzati dalla combinazione di una grande attenzione ai dettagli artigianali e di tecnologie all'avanguardia. Robert Greubel e Stephen Forsey si sono incontrati per la prima volta nel 1990, mentre lavoravano per la prestigiosa manifattura svizzera Audemars Piguet. Nel corso degli anni, i due hanno sviluppato un forte interesse per la creazione di orologi di alta qualità, e nel 2004 hanno fondato il loro marchio, Greubel Forsey. Uno dei modelli più noti di Greubel Forsey è il Double Tourbillon 30 gradi, un orologio dotato di due tourbillon inclinati a 30 gradi e una riserva di carica di 120 ore. Grazie alla sua precisione e alla sua complessità, il Double Tourbillon è stato premiato con numerosi premi nel mondo dell'orologeria di lusso. Ma Greubel Forsey non si limita a produrre orologi con tourbillon. Il marchio produce anche orologi con complicazioni sofisticate, come il tourbillon quadruplo e il calendario perpetuo, oltre a modelli di orologi sportivi e cronografi. I modelli di Greubel Forsey sono apprezzati dagli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo, e il marchio ha vinto numerosi premi nel corso degli anni. Grazie alla sua reputazione di eccellenza, i modelli di Greubel Forsey sono spesso considerati degli investimenti di valore nel mondo dell'orologeria di alta gamma. In conclusione, Greubel Forsey è un marchio di orologi di lusso che rappresenta l'eccellenza artigianale e tecnologica della Svizzera nel mondo dell'orologeria di alta gamma. La produzione artigianale dei suoi orologi, l'attenzione ai dettagli e l'utilizzo di tecnologie all'avanguardia sono solo alcune delle ragioni per cui Greubel Forsey è così apprezzato dagli appassionati di orologi di lusso in tutto il mondo. Grazie. 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 Grazie.